Il libro Piazza Fontana, per chi non c'era, vuole raccontare un po' i fatti che hanno aperto questi anni di piombo in Italia e vorremmo sapere insomma com'era e qual era in realtà la strategia della tensione. È una domanda difficile. Comunque sì, quella di Piazza Fontana è stata la prima strage, la prima bomba messa in Italia e che ha provocato una strage dopo la guerra e quindi è stato un momento molto particolare, fondamentale per la nostra storia perché da quel momento poi ne sono successe altri di stragi e la strategia della tensione si intende questo. In quel momento c'è stato chi ha tentato di bloccare lo sviluppo, il progresso del nostro paese in quegli anni, che erano anni molto vivaci, quelle della fine degli anni 60, c'erano delle proteste sia nelle scuole, nelle fabbriche e qualcuno ha tentato di bloccare questo vento di rinnovamento con le bombe. Tutto sommato non ci è riuscito, però ha fatto dei morti, non ci è riuscito perché poi comunque in quegli anni vengono approvate delle leggi, non so, quella sul divorzio, pure lo statuto dei lavoratori, quindi l'Italia va avanti, però comincia una stagione nera, una stagione di morti, di attentati che durerà a lungo. Quale pista tra l'anarchia e il neofascismo alla fine oggi risulta più attendibile? Non si tratta di attendibilità, ormai si tratta praticamente di una verità sodata, perché è passato mezzo secolo e non ci sono più dubbi, è ufficiale che quella bomba la misero neofascisti, neonazisti se vogliamo, di Ordine Nuovo, che era un gruppo che proprio qui in Veneto aveva le sue cellule più importanti, gli attivisti, che si ispiravano alle teorie naziste in realtà e che avevano creato dei gruppi proprio nelle province venete, in particolare a Padova, a Venezia, a Mestre, furono loro. Quello che non sappiamo è esattamente il nome di chi portò la bomba dentro la Banca Nazionale dell'Agricoltura, però molte altre cose le sappiamo, sappiamo chi preparò l'esplosivo, sappiamo i nomi di altre due persone che parteciparono a questo attentato e poi sappiamo anche i nomi delle persone dei servizi segreti che depistarono, i capi dei servizi segreti che depistarono le indagini. Quali sono oggi le difficoltà nell'analizzare i fatti occorsi ormai 40 anni fa? Di Piazza Fontana si sa praticamente tutto perché ci sono stati più di 10 processi, 36 anni di inchieste. Oggi la priorità è raccontare questa storia, come sono andate le cose alle giovani generazioni. Questo è il compito che un po' questo libro e anche il racconto civile che stiamo facendo con Guido Lorenzo contribuisce a fare, a trasmettere la memoria e il racconto di ciò che è stato. Da testimone della strage di Piazza Fontana, come spiega il fatto che tuttora non ci siano ancora dei colpevoli ufficiali? Io penso che non ci saranno mai. Questo fa parte di quella che era stata la decisione della strategia dell'attenzione di provocare sconcerto nel paese e proteggere fino alla fine i responsabili.